Avevano creato una pista da cross abusiva nelle campagne di Monforte San Giorgio. I carabinieri, a conclusione di una complessa attività investigativa, hanno denunciato 5 persone con l'accusa di aver costituito una pista in terra abbattuta per esercitazioni da motocross. Nei guai sono finiti due proprietari del fondo, di 86 e 58 anni, nonché i tre possessori materiali di 36, 24 e 35 anni. L'attività d'indagine, condotta unitamente a personale del distaccamento di Rometta, del Corpo Forestale della Regione e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monforte San Giorgio, ha consentito di appurare che i 5, mediante la movimentazione della terra in un'area ubicata nella contrada Santa Fraga del Comune di Monforte San Giorgio, classificata agricola nel piano urbanistico dell'ente ed avendo un'estensione di 11.000 metri quadrati, hanno creato una pista in terra abbattuta per l'esercitazione alle competizioni di motocross. La movimentazione della terra è avvenuta senza porre in essere nemmeno una corretta ed efficace reggimentazione delle acque meteoriche. Nel corso degli accertamenti è emerso che la realizzazione della pista da motocross è avvenuta in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ricadente nella fascia di rispetto di 150 metri dall'alveo del torrente Niceto, con il quale la pista confina e dal quale si accede mediante un varco praticato nel muro d'argine del torrente, dove è stato apposto un cancello in ferro. È emerso ancora che il fondo interessato dalla realizzazione della pista ricade in un'area percorsa dall'incendio di vaste proporzioni verificatosi il 16 giugno scorso. Gli interessati sono risultati sprovvisti, oltre che dell'autorizzazione paesaggistica, anche della preventiva autorizzazione alla movimentazione del terreno ai fini del vincolo idrogeologico che avrebbe dovuto concedere la competente autorità forestale. L'area è stata sottoposta a sequestro preventivo in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.